Gentili telespettatori, buona giornata. Sapete degli oltre mille sindaci di destra, di sinistra, di centro che hanno scritto a Draghi in una lettera congiunta chiedendogli di rimanere. Delle richieste assolutamente legittime in quanto il sindaco, autorità politica può fare lettere e scrivere a chi vuole, ma non solo come autorità politica ma anche come singolo cittadino può scrivere a chi gli pare piace perché l'articolo 21 della Costituzione, ve lo vado a leggere l'articolo 21 della Costituzione che dice tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. quindi tutti, tutti, dal primo all'ultimo in ordine alfabetico in Italia tutti, stabilisce la carta magna italiana hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, cioè parlando, scrivendo e con oltre con ogni altro mezzo di diffusione pertanto ovviamente come vi dicevo ieri il sindaco è un'autorità politica eletto da una parte dei cittadini governa la città il presidente di regione governa una regione eletto da una parte dei cittadini il capo del governo governa una nazione eletto da una parte dei cittadini tutti quelli che governano dal presidente del consiglio al sindaco del piccolo comune sono eletti da una parte della popolazione secondo Giorgia Meloni i sindaci non devono fare queste cose perché è un uso incorretto delle istituzioni in quanto loro sono stati eletti solo da una parte dei cittadini allora non può parlare neanche Fedriga Zaia Zingaretti allora neanche i presidenti di regione possono parlare perché non sono stati eletti dal 100% dei cittadini allora neanche il presidente del consiglio può parlare allora neanche i ministri possono parlare allora nessun politico dovrebbe parlare secondo la teoria di Giorgia Meloni nessun politico dovrebbe parlare perché non è stato eletto dal 100% dei cittadini capisco la sua voglia di andare alle elezioni per governare il paese ma non è proprio andare ad insultare mille oltre mille sindaci dicendo che sono dei burattini delle persone che dovrebbero vergognarsi per aver fatto una lettera a Draghi cercare di diciamo dire ai sindaci voi non dovreste parlare io ricordo a Giorgia Meloni che in Italia c'è la democrazia è una repubblica cercare di limitare la libera espressione del pensiero con parole scritte come esercito dalla Costituzione insomma è da una persona che vuole andare a governare che cerca di limitare la libera espressione dei sindaci non mi sembra molto democratico voi cosa ne pensate i sindaci se la prendono con la Meloni dicono è un ignorante istituzionale ma ad esempio il Secolo d'Italia che è un giornale filo fratelli d'Italia scrive sindaci e sinistra contro la Meloni ignorante istituzionale ma i veri analfabeti sono loro naturalmente il Secolo d'Italia prende le posizioni di Giorgia Meloni ma come farà a dire ad affermare questo vediamo che cosa scrivono la sinistra trova un giochetto domenicale scrive il Secolo d'Italia le hanno dato dell'analfabeta istituzionale cosa vuol dire analfabeta istituzionale l'analfabeta istituzionale è una persona che è nelle istituzioni parla di istituzioni ha un'infarinatura generale delle istituzioni ma in realtà non sa sa poco di istituzioni questo è il significato di analfabeta istituzionale accusandola di inadeguatezza ignoranza ma dice il Secolo d'Italia si tratta di accuse tutte da rispedire al mittente si tratta dice della grammatica elementare si tratta di una forzatura di cui è ancora possibile chiedere conto mi chiedo dice la Meloni se sia corretto che questi sindaci e governatori che rappresentano tutti i cittadini che amministrano anche quelli che la pensano diversamente usino le istituzioni così senza pudore come se fossero sezioni di partito i sindaci sono di partito i sindaci sono sezioni di partito i sindaci sono eletti con un partito per portare quei valori ammesso che ce ne siano di quel partito nella città è certo che il sindaco esprime le sue opinioni politiche cosa credete che il sindaco della Lega faccia finta di non essere della Lega il sindaco del PD faccia finta di non essere del PD i sindaci fanno il loro lavoro politico facendo e portando le cose politiche del loro partito nella città nella città quindi il sindaco è un politico vero e proprio che porta il verbo del partito che lo mette lì nella città nell'amministrazione locale un ragionamento politico a una domanda segue un diluvio di proteste pertanto si arrabbia di brutto Andrea del Mastro è il rituale inelegante che chi si occupa un ruolo istituzionale si mette a fare il tifo contro una parte di opinione pubblica che pure dovrebbe rappresentare nel ruolo chi è investito insomma quello che volevo dirvi è questo Fratelli d'Italia risponde dice è Marcucci il vero analfabeta istituzionale allora io non do dell'analfabeta nessuno istituzionale però vi ho detto quello che penso in realtà il sindaco ha tutto il diritto di fare una lettera a Draghi che vi piaccia o no ha tutto il diritto sancito dalla Costituzione e anche dal suo ruolo di sindaco il sindaco come parte terminale dell'amministrazione pubblica ha tutto il diritto di chiedere a chi è il vertice guarda che non andare via perché io avevo bisogno di questo di quello di quello se vai via ho paura che queste cose non arrivino più il sindaco che sia di un paesino di 500 persone o di 5 milioni ha il diritto assoluto di scrivere a Draghi lui magari in congiunto con altri poi se non fa piacere che ci siano dei sindaci che possono far cambiare opinione a Draghi non si può imporre cercando di silenziare i sindaci dicendogli che sono dei burattini ci sono dei problemi di democrazia vedo io ci sono dei problemi sotto questo aspetto che stanno emergendo rifletteteci grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti